Ciao Giovanni, per quanto riguarda Caldara lo reputo uno dei profili più interessanti che il calcio ha proposto in questi ultimi anni. Ha avuto la fortuna e la bravura anche di giocare con una certa continuità qua all'Atalanta, dimostrando grandi doti tecniche, fisiche ma soprattutto anche caratteriali, perché lo reputo anche un serio professionista che sa quali sono stati i suoi punti dove ha dovuto lavorare per poter crescere. Ha fatto un percorso importante nel nostro settore giovanile e credo che si merita il palcoscenico della Juventus. Molto probabilmente, adesso non so se verrà impiegato da titolare oppure no, però credo che avere il problema è come i maestri Chiellini, Barzagli gli possa dare sia il tempo che il modo di poter crescere ed imporsi anche a quei livelli, a certi livelli come la Juve in questo momento qua sta rappresentando. Sicuramente è un percorso che dovrà fare importante e anche difficile, perché non è facile passare da una realtà come l'Atalanta a una realtà come la Juventus. Sicuramente gli obiettivi e le pressioni sono decisamente diverse, però credo che ha tutte le potenzialità ma soprattutto ha le basi per poter affrontare questo tipo di percorso. Ma come ti dicevo prima, ha anche, insomma, sicuramente avrà anche l'apporto da parte dei compagni, da parte dell'allenatore di Mister Allegri che come Rugani ha saputo dosarlo nell'impiego, ha cercato sempre anche magari di proteggere nei momenti di difficoltà, quindi insomma credo che sia in buone mani. Grazie.